E' di oggi la notizia della morte di Silvio Berlusconi, quello che secondo Forbes era considerato il terzo uomo più ricco d'Italia, con un patrimonio complessivo stimato di 6,8 miliardi di euro. Sicuramente Silvio Berlusconi come figura politica ha diviso il paese con persone che lo supportavano e altre che invece non condividevano la sua visione, ma quello che è certo è che il Berlusconi imprenditore ha lasciato il segno nella storia imprenditoriale italiana. E nel video di oggi, lasciando fuori le questioni prettamente politiche, vorremmo ripercorrere brevemente quello che è stato il suo percorso e la sua storia all'interno dell'economia italiana. E se apprezzato ogni tanto anche questi contenuti un po' off-topic rispetto all'ambito finance, dateci una mano a diffonderli e far crescere il canale di ingegneri in borsa. La carriera di Berlusconi inizia dopo il 1961, dopo la sua laurea in giurisprudenza ottenuta con il massimo dei voti. Prima aveva fatto qualche lavoretto, come ad esempio sulle navi da crociera, o come venditore porta a porta di elettrodomestici. A questo punto invece decide di ambire a qualcosa di più e si butta nell'ambito imprenditoriale. Il primo settore scelto da Berlusconi fu quello immobiliare, dopo la fondazione dell'azienda Cantieri Riuniti Milanesi SRL. All'inizio si trattava di acquisti di terreni, salvo poi lanciarsi in progetti sempre più ambiziosi, come la realizzazione di grossi condomini. Ci sono diversi anedoti, spesso anche da lui raccontati, sul modo con cui inizialmente portava a casa certe vendite. Ad esempio, uno di quelli che ci è rimasto più in mente è stato quando doveva vendere le prime abitazioni all'interno di un condominio e per dare l'idea che fossero molto richieste, aveva fatto partecipare molti suoi amici e parenti, per esaltare il fatto che ci fosse una grande domanda per un'offerta limitata. Alcuni di questi anedoti sono anche piuttosto divertenti, come ad esempio durante una di queste inaugurazioni, una sua parente l'aveva salutato calorosamente con un bacio sulla guancia e un potenziale cliente gli aveva chiesto ma Berlusconi, tutti i suoi clienti la salutano in questo modo? Al di là di questo, il primo grosso colpo di Berlusconi è nel 1968, quando acquistò un terreno veramente gigantesco, parliamo di 712.000 metri quadri. Si tratta del luogo dove andrà a sorgere Milano 2 e dopo lo straordinario successo di questo quartiere residenziale, Berlusconi lavorò a Milano 3. Negli anni 70 Berlusconi inizia a dar sfogo alla sua grande ambizione, affacciandosi su settori diversi rispetto a quello immobiliare. Nel 73 venne fondata Italcantieri, che nel giro di due anni diventò anche una società per azioni. E nel 1976 entra nell'ambito dei media, acquistando un piccolo emittente locale chiamato Telemilano, che nell'arco di pochi anni diventerà Canale 5. La sua intuizione nell'ambito media fu capire che se tutti i telespettatori avessero visto nello stesso momento un determinato spot pubblicitario, avrebbe potuto fornire ai clienti che compravano questo spazio pubblicitario dei dati molto precisi e mostrare loro la convenienza economica di investire in pubblicità. In questo modo infatti acquistò diversi emittenti, andando a creare un vero e proprio duopolio con la Rai. I business cominciavano ad essere tanti e le attività diverse, e infatti Berlusconi fondò proprio in quegli anni una holding che andasse a controllare tutte queste attività imprenditoriali. Nel 1978 infatti nasce Finiwest, che ad oggi fattura oltre 5 miliardi di euro. Negli anni 80 continua l'espansione nell'ambito media, fino ad arrivare a fondare quella che ormai è la ex Mediaset, una holding che controlla tantissimi emittenti e che è anche quotata in borsa. All'inizio degli anni 90 Berlusconi è già molto ricco e diversifica il suo portafoglio. Ad esempio nel 1990 acquista la maggioranza di mondadori, quindi entra anche nel campo editoriale. Si espande anche poi nell'ambito della distribuzione, un settore che prima non aveva mai approfondito, acquisendo il gruppo Standa e i supermercati Brianzoli. A quel punto la holding di Berlusconi si espande ancora di più, pensate che fa degli investimenti anche nel settore assicurativo e inizia ad acquisire quote in ambito mancario attraverso Mediolanum. Non dimentichiamo poi un altro ambito che ha portato alla storia Berlusconi, sia quello calcistico attraverso il Milan. Ne divenne proprietario nel 1986 e rimase presidente fino al 2017. Pensate che riuscì a portare a casa 29 trofei in 31 anni, portando il suo carisma e il suo modo di fare dall'ambito imprenditoriale a quello calcistico. Visto che poi ci troviamo qui su Ingegneri in Borsa approfondiamo anche la parte un po' più finanziaria, andiamo a vedere la struttura delle aziende controllata dalla famiglia Berlusconi. Partiamo dal gruppo Fininvest, questo controlla Mediaset al 38%, Mondadori al 53,5% e pensate che solo Mondadori capitalizza oltre 500 milioni, abbiamo poi Mediolanum con un 35%, c'è poi il teatro Manzoni al 100% e adesso la squadra del Monza. Questa cosa forse pochi di voi la fanno, ma Berlusconi o comunque la sua famiglia è molto attiva anche nel settore delle start-up, con due che sicuramente tutti voi conoscete. Possiedono infatti il 2% di Satispay, la famosa app dei pagamenti, e il 6,8% di soldo. Adesso che si è verificata poi la sua dipartita, rimane il grosso problema per la famiglia di allocare tutte queste partecipazioni, il grosso impero che Berlusconi ha costruito in tutta la sua carriera. Naturalmente non possiamo sapere quale sarà l'allocazione esatta, perché il testamento di Berlusconi non è ancora disponibile. E in realtà ancora quando Berlusconi era in vita non possedeva lui direttamente il 100% di Finiwest, ma il 39% era già intestato ai figli, quindi di fatto c'è solo una quota da spartire. Questa potrebbe essere divisa equamente fra tutti i suoi 5 figli, in modo che ognuno ottenga circa un 12% delle quote, o ci sono anche voci secondo cui la divisione non sarebbe proprio esatta, lasciando una quota maggiore al figlio Pier Silvio. Insomma Berlusconi in un modo o nell'altro è strettamente legato allo sviluppo dell'Italia degli ultimi 50 anni. Non abbiamo volontariamente approfondito la parte politica perché ognuno può avere le sue idee, ma volevamo portare qui sul canale la storia di uno dei più grandi e conosciuti imprenditori italiani, che ha lasciato un segno in davvero tanti settori diversi, da quello immobiliare a quello sportivo. Vogliamo anche lasciarvi con una delle sue frasi più celebri, che rappresenta perfettamente il suo modo di pensare e di essere. Sono un sognatore pragmatico, dice Berlusconi, altri fanno sogni che restano sogni, io cerco di trasformare i sogni in realtà. Insomma ragazzi abbiamo cercato con questo video di lasciare un piccolo omaggio nel giorno della sua morte, sperando di aver realizzato un contenuto interessante che vi porti a conoscere un po' meglio la storia di Silvio Berlusconi, imprenditore. Fateci sapere il vostro parere nei commenti, è sempre interessante vedere il punto di vista della community. Se il video vi è piaciuto mi raccomando cliccate il tasto like e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Ingeneri in Borsa. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!